Parliamo della sua canzone in gara qui al festival. Mi spiega come può fare una gondola a partire da Venezia e arrivare a Napoli? Certo, ma c'è la prima taglia a piedi. Io ho sempre pensato che ci sono due categorie di donne. Quelle da portare a cena e quelle da portare a letto. Alla gala ce l'hai a casa. Ma è stata bella? Addio, così mi emoziono. Sovra abbraccio, pensa dopo. T'amico, non c'è sta? Che me può consolare. Come? Ultimo. Ancora facciamo arrivare ultimi a Sanremo Zucchero, Asco, Carifano. Devono svecchiare queste cazzo le giurie. Noi dobbiamo puntare sulle serate. Dobbiamo fare 200 serate all'anno. Franco è l'animale da parco scenico. Io non voglio andare in televisione a farmi via per culo. Ma può essere che non lo capisci. Sei bella, chiedo aiuto per gridarti. Sei bella, sei via, già con la fantasia. Complimenti. Una bella serata ti hai trovato. La prossima, donna, ma la tavola di alla. La discorso è che tu devi smettere di fare il stile Galaci. Tu sei Franco Califano. Tu devi fare i teatri quelli importanti, quelli di livello. Quando ho saputo questa storia, io gli ho fatto una promessa. Ti avrei ritrovato. E ricambiato il favore. E trovarmi qui, adesso, mi consente di ricambiare quel favore. Fate un po' vedere. C'hai l'occhio lucido. E' sicuro un po' caldo. Un tumore. Un tumore in fase avanzata. Lo sapevate tutti che stava male. Non mi avete detto niente. Manca poco. Non manca poco. O io non ti voglio sentire di queste cose, va bene? Io un padre l'ho già perso, sto bene così. Non voglio essere da pieghe. Perché arrivano sta male. Franco, ci siamo. Fra due minuti ti faccio entrare. Non escludo il ritorno. Un film di Stefano Calvagna. Notizia bomba per tutti gli appassionati di cinema e non solo. Quale stella della WWI avrà il ruolo del cattivo in Bond 24? Avete indovinato? Dave Bautista. L'attore, fresco protagonista dei Guardiani della Galassia, sarà lo scagnozzo Hinks, personaggio descritto come estremamente fisico con un passato sportivo. Le riprese di Bond 24 inizieranno il 6 dicembre di quest'anno e la pellicola uscirà nelle sale il 6 novembre 2015. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sulle ultime uscite al cinema. A presto!